Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video volevo informarvi che Rockstar ha aggiunto nuovi bonus nell'evento che ha rilasciato settimana scorsa su GTA Online. Alla fine si tratta di un unico evento, solamente che solo per questa settimana Rockstar ha voluto aggiungere bonus, insomma. L'evento terminerà il 15 maggio e se non avete visto il video dove vi ho informato riguardo gli sconti e i bonus che Rockstar ha rilasciato nell'evento settimana scorsa, vi lascerò nella descrizione sotto questo video il link di quel video dove vi ho informato riguardo gli sconti e i bonus di questo evento. Il bonus che ha rilasciato per questa settimana Rockstar Games su GTA Online si tratta degli RP e i soldi doppi in tutti e cinque i colpi. Il colpo alla flica, il colpo evasione, il colpo irruzione ai laboratori human, il colpo finanziamento stupefacente e il colpo alla Pacific Standard. Poi ha rilasciato una nuova gara premium riservata al Blazer Acqua, tutti i partecipanti guadagneranno tripli RP, mentre chi si qualificherà al primo, secondo o terzo posto, quindi nel gradino del podio, riceverà un premio in denaro. Infine ha rilasciato una nuova prova a tempo, Raton Canyon, dove bisognerà battere il tempo di riferimento per ottenere ricche ricompense in RP e denaro. Poi, come vi ho informato già a inizio video, non sono solamente questi i bonus e gli sconti che Rockstar ha rilasciato su GTA Online tramite l'evento di questa settimana, ma ce ne sono ben altri che vi ho informato nel video che vi lascerò nella descrizione sotto questo video. E i bonus di questo evento sono davvero incredibili, vi permettono di guadagnare veramente un sacco di soldi. Perciò, niente ragazzi, in descrizione vi lascerò anche il link dell'articolo riguardo l'evento del sito Rockstar Newswire. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orko vede tutto noi ci vediamo al prossimo video. Bella!